Carissimi amici di Radio No Frontiere, siamo in una trasferta importante, suono libero music, questo studio di registrazione, ospiti di Nando Misuraka, che è il padrone di casa in questo momento momentaneamente assente, ci ha dato la libertà di disporre dello studio, nei limiti del codice penale, tutta gente che non sapeva suonare, dei simboli della musica, siamo qui per questo. Vi riconoscete tutti? No, noi abbiamo fatto il giochino, ci abbiamo provato e Raffaele è stato molto più bravo di me. Ma anche tu dai. Allora, Raffaele Russomando. Ciao a tutti. Io sono Maria Villani. Ma cosa bello è che non ci si vede? No, perché noi ci vediamo, poi c'è anche il nostro carissimo Mauro Cielo che sta armeggiando, sta armeggiando con... Che cosa armeggia l'armeggiatore? Armeggia con i ferri del mestiere, ma andiamo a curiosare nello studio di registrazione, guardate qua. Sembra molto Gialappas voce fuori campo. Mamma mia, guardate. La bottega dei miracoli. Sì, spero che si possa vedere, questa è una statuina di Lucio Dalla. Mi ha colpito in modo particolare. Grande, grande. Questi sono gli arnesi ferri del mestiere. Fretanti. Sì. E un bellissimo pianoforte per il momento a riposo con appunti scribacchiati, che sono la cosa più bella. Oh, che bello, Yellow Submarine. Un bellissimo poster. E questa finestra che fa allegria. Qui siamo al buio, ma per non disturbare, per il momento, questo piccolo filmato introduttivo serve per dare l'idea di dove ci troviamo. E per il momento vi salutiamo. E vi salutiamo con una massima alla Totò. Eccoci qua. Ciao, ciao. Ciao.